Sull'urgenza di assicurare servizi e prestazioni sanitarie essenziali tanto ai cittadini residenti quanto ai turisti durante la stagione estiva è tornato il Codacons Cilento che ha scritto alla direzione generale dell'ASL Salerno per avere chiarimenti urgenti sull'organizzazione e il funzionamento delle guardie mediche e del 118 sul territorio del Cilento, Vallo di Viano Alburni e Golfo di Policastro, ne dà notizia il responsabile Bartolomeo Lanzara. Il servizio di guardia medica spiega garantisce l'assistenza gratuita di base, ambulatoriale o a domicilio per situazioni che rivestono carattere di urgenza durante le ore notturne, nei giorni festivi e prefestivi. Sono un punto di riferimento per la popolazione locale, la quale vi si rivolge anche per evitare di recarsi al pronto soccorso degli ospedali, spesso, soprattutto nel periodo estivo, intasati per la forte presenza di turisti. È importante, inoltre, dice, potenziare il servizio di ambulanze 118 offerto principalmente dalle associazioni di volontariato in convenzione che dovrebbero garantire la presenza a bordo del personale tecnico infermieristico specializzato e del personale medico. Ho chiesto, ha precisato Lanzara, quali atti disintendono porre in essere per garantire il servizio del 118 e delle guardie mediche che ad oggi sono sotto organico e in quei territori che sono privi di presidio. Prosegue Lanzara. Il livello di assistenza sanitaria in maniera omogenea e capillare in tutto il territorio e in particolar modo nei territori dell'interno, già pesantemente penalizzati dalla carenza di strutture e servizi sanitari e da una obsoleta rete stradale.